Questione ospedale di Cerreto Sannita. Entro lunedì sarà inviato al presidente dell'Aggiunta regionale della Campania, Stefano Caldoro, un documento per chiedere un incontro urgente che reca la firma dei sindaci del comprensorio e di alcuni consiglieri provinciali. Si tratta, secondo quanto fanno sapere dal Comitato contro la chiusura dell'ospedale Maria Santissima delle Grazie, di un mezzo che servirà a rappresentare le esigenze del territorio direttamente al presidente Caldoro senza intermediari. Intanto è in programma, sempre lunedì prossimo 19 luglio, una nuova seduta di Consiglio Comunale a Cerreto Sannita. L'appuntamento è fissato alle 18.30 a Palazzo del Genio. Si discuterà del nosocomio cerretese per il quale, in base a quanto previsto nel piano del subcommissario Zuccatelli, c'è la riconversione in una struttura polifunzionale per la salute. Il Consiglio Comunale è chiamato a riunirsi in seduta straordinaria, urgente, pubblica e aperta alla deputazione Sannita, al presidente della provincia di Benevento, Aniello Cimitile e ai sindaci dei comuni del comprensorio. In base a quanto reso noto dal comitato, intanto lo stato d'animo rispetto al piano non è positivo. Sostanzialmente, fanno sapere, si ipotizza per l'ospedale di Cerreto una trasformazione in guardia medica. Ciò appare ridicolo rispetto alle esigenze del territorio.